E' l'ennesimo colpo al cuore della nostra civiltà, un attentato fatto a un concerto, quindi fatto nel cuore di quei valori che la nostra civiltà occidentale deve continuare non solo a coltivare ma a difendere con molta più intransigenza e con molta più convinzione, fatto a dei giovani e quindi fatto al futuro della nostra civiltà. Quindi ovviamente lacrime e cordoglie a vicinanza al popolo britannico sia della regione Liguria sia del paese tutto sia mio personale, ma piante le vittime e asciugate le lacrime occorre cominciare a dare delle risposte intransigenti e serie verso questi assassini che sono sia di carattere culturale, nessun passo indietro rispetto alla scala dei valori che permea la nostra civiltà, sia da un punto di vista politico e militare andando a colpire laddove ci sono le basi e le centrali di questo terrore e da noi costruendo quelle reti di protezione e di intelligenza per proteggerci che ancora oggi dimostrano essere efficaci comunque.